Ma insomma una notevole iniziativa diplomatica è stata fatta prima dell'inizio di questa guerra senza nessun successo, ci ricordiamo tutti gli innumerevoli tentativi telefonate di Macron, di Scholz e così via. Oggi è chiaro che il tentativo è di premere su Putin perché Putin, che ha cominciato questa guerra, decida di smetterla. Perfino Papa Francesco ha dichiarato al Corriere della Sera che Putin ha cominciato una guerra di aggressione e deve finirla, che il bandolo parte da lì. Ora chi possa effettivamente esercitare questo potere di persuasione sul Cremlino? È molto difficile da dire, ad esempio si è pensato a lungo che la Cina potesse essere nella posizione di farlo ma abbiamo visto che in realtà la Cina non ha neanche la vocazione di giocare un ruolo del genere e quindi la guerra continuerà secondo me fino a quando Vladimir Putin non riterrà di poter esibire un qualche tipo di successo perché Putin sta combattendo in realtà non solo per il controllo dell'Ucraina, ha già perso l'idea di poterla controllare completamente, deve poter rivendicare dei successi parziali nel mare di Azov, Mariupol, forse nel Mar Nero, sicuramente nel Donbass. Quindi finché non arriverà lì, arrivare a una trattativa sarà molto difficile e a quel punto sarà difficile per Zelensky accettare una perdita territoriale così grave che ricorderebbe quella della fine della guerra di Finlandia nel 1939-40. Quindi la cosa è molto intricata. Posso dire una cosa sulle sanzioni? Comunque vada l'accordo eventuale, comunque vada una trattativa. Il punto è che l'Unione Europea ha comunque bisogno di una nuova politica energetica, una cosa che sia Gentiloni che Roberta Mezzola, come ricordavi, hanno detto chiaramente. Perché questo eccesso di dipendenza esclusiva da un unico fornitore, e cioè la Russia, sia per il gas che il petrolio, ci ha reso estremamente vulnerabili. Quindi a prescindere dalla vicenda dell'Ucraina abbiamo bisogno di una diversificazione delle fonti di approvvigionamento e del mix energetico. Quello comunque. E per questo è interessante non solo la vicenda del petrolio che secondo me andrà a finire bene, fra virgolette, perché un accordo ci sarà, perché quello che conta non è l'Ungheria, francamente, che è un piccolissimo paese e cioè compra poco petrolio in sostanza, anche se dipende quasi esclusivamente dalla Russia, ma è la Germania. E qua Dario ricordava molto giustamente che la Germania ha già ridotto i suoi acquisti di petrolio dal 37 al 12 per cento. La Germania ha fatto un cambiamento veramente epocale sulla questione energetica. Però resta il tema del gas. E resta il tema del gas, su cui l'Unione Europea, interessante oggi capire meglio, sta tentando di concepire una sorta di piccolo recovery fund, come abbiamo adottato di fronte alla pandemia, e cioè dei meccanismi di compensazione, perché è chiaro che queste transizioni energetiche costano, in particolare per l'industria e per una parte dei ceti produttivi italiani, non solo italiani. Quindi c'è l'idea che ci siano delle misure di compensazione non solo nazionali, ma europee, una sorta di nuovo piccolo recovery fund, in parte preso dai fondi non regati del Next Generation EU. Vado allora da Claudio Tito, molto brevemente adesso, spero che si sia ripristinato il collegamento, poi la pubblicità e poi approfondiamo di più. Però Claudio, proprio su questo, sul gas, quest'ipotesi di...